In questo numero del Salus Tg, Annuario Istat 2016, il 70% degli italiani si sente bene, meno soddisfatte le donne. Ferri in grafene, l'idea italiana per prevenire le infezioni in sala operatoria. Meningite, indagini dell'Ars Toscana su gruppi a rischio e portatori sani. Gli italiani si sentono bene, il 70,1% da un giudizio positivo sul proprio stato di salute, in linea con l'anno precedente. I più soddisfatti sono gli uomini, il 73,9% rispetto al 66,4% delle donne. Questa è la fotografia scattata dall'Annuario Statistico Italiano 2016 dell'Istat. In generale, il 39,1% degli italiani dichiara di soffrire di almeno una fra le 15 patologie croniche più diffuse, l'ipertensione e il disturbo prevalente seguito da artrosi e artrite e dalle malattie allergiche. Tende poi a stabilizzarsi il numero di ricoveri. Nel 2014 le dimissioni ospedaliere per acuti in regime ordinario e in dei hospital sono state 8.682.042, pari a 1.428 dimissioni ogni 10.000 residenti. Si ispira ai segreti di madre natura, l'idea di un gruppo di scienziati italiani che in uno studio finanziato dal Consiglio delle Ricerche Europeo suggerisce una via contro le infezioni chirurgiche, usare strumenti operatori e protesi rivestiti di ossido di grafene, modellato con una nuova tecnica laser per riprodurre le asperità tipiche del guscio del granchio. Proprio grazie alla struttura del suo carapace, infatti, il crostaceo non viene attaccato dai germi. Visto l'incremento dei casi di meningite da meningococco C, la Regione Toscana ha avviato indagini epidemiologiche per identificare gruppi di popolazione più a rischio, verso i quali indirizzare gli interventi vaccinali, e anche un'indagine per individuare i portatori sani. In base ai dati preliminari sono 59 i casi di meningococco C da gennaio 2015 a dicembre 2016, rispetto ai 5 del bienno 2013-2014.